Siamo quasi pronti al recollo Ci siamo quasi Amore siamo pronti al recollo? Eccolo Ecco Eccolo Eccolo Questo è il delirio di New York? Eccolo 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 L'orario è le 10, sono le 9.40 adesso In Italia sono le 15.50 più o meno Io vorrei entrare ma Vabbè, stare in attesa Vediamo un po' Devo scegliere un po', devo scegliere questo, devo scegliere questi, una lista di bustini e sono qua Eccolo Eccolo Eccolo